Siamo a un ottimo punto perché ci sono una serie di normative, quindi di legge che vanno in questa direzione e cominciano a esserci tante buone esperienze, quindi siamo a un buon punto. Per favorire l'interimento lavorativo, cosa si sta facendo sostanzialmente? Quali progetti si stanno mettendo in campo? I progetti che si mettono in campo sono vari, io conosco bene quelli che facciamo con il Centro Studi per i diritti e la vita indipendente e chi è interessato può guardare sul nostro sito del Centro Studi per i diritti e la vita indipendente dove sosteniamo persone con disabilità anche nell'inserimento lavorativo. Come sensibilizzare le istruzioni sull'inserimento lavorativo? Quali progetti adottare? I modi sono tanti, uno è non stancarsi di chiedere, l'altro è anche fare vedere delle buone pratiche, cioè fare vedere che in tanti posti già si fa e quindi questo aiuta. Grazie. Allora, cominciamo con un figlio. Pensare a un po' con noi, che non è più magari un istituto, ma che gli possa dire a conto suo. Pensare all'inserimento, soprattutto alla nostra figlia, non vogliono molto interessi, perché è un'importanza di un peso dell'inserimento, di un po' con la speranza che il sogno che vogliono ammettare le nostre figlie, ci possiamo creare, che se non è un'attività di 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 un'attività. Questi genitori sono dei genitori che fanno parte dell'Officina della vita indipendente, che è un modo di lavorare che abbiamo messo a punto con il Centro Studi per i diritti della vita indipendente, di cui sono responsabile scientifico, ed è un modo di lavorare che sostiene i genitori in un processo che noi chiamiamo di capacitazione, cioè di prendere consapevolezza che sono i genitori i registi del percorso di vita indipendente dei propri figli. Perché i genitori di bambini piccoli, questi sono genitori e figli con disabilità interdittiva con disabilità molto complessa, tra i 0 e i 14 anni, perché i genitori dei piccoli, perché tutti noi incominciamo a lavorare per la nostra vita indipendente quando siamo vicini. Che cosa succede? Succede che noi cresciamo e a mano a mano che cresciamo le persone si aspettano e noi impariamo a fare delle cose e se non le sappiamo fare non va tanto bene. Per esempio che io faccio sempre, se un bambino di 11 anni va dalla maestra e dice maestra legami la scarpa, la maestra gli dice ma grande così non te le sai ancora legare, che vergogna. Se va a un bambino che ha una disabilità indellettiva e gli dice maestra legami la scarpa, cosa fa la maestra? La lega, la lega. La lega. E i compagni non ridono che lui non sa ancora legare se stiamo. Allora, questa cosa qua significa che non c'è quell'accompagnamento sociale che ci aiuta a imparare a fare le cose. E perché è così importante questo accompagnamento sociale? Vi faccio un altro esempio. A che età si toglie oggi il pannolino? A che età si raggiunge normalmente la capacità del contatto e del controllo sintetico, cioè integrato nella cacca e la bambina. A che età si raggiunge? Un anno. 18 mesi. 18-24 mesi. Allora, come mai i bambini che già a 18 di qui e a 2 anni potrebbero togliere il pannolino, non lo vogliono? E come mai? Se vieni come, vogliano la bambina. E perché togliere il pannolino è una barba pazzesca? Vai, e fa la pipì sul paffè, fa la bambina sul sofà, e poi, veda, il pannolino costa un sacco, ma è comodissimo, prendi, così via. Io dico scherzosamente che il giorno che il maestro della scuola dell'infanzia accetterà da bambini col pannolino, voi vedrete che i bambini di 5 anni come va per di nuovo il pannolino. Perché? Perché noi impariamo le cose, non solo perché siamo in grado di impararle, ma le impariamo anche perché intorno a noi qualcuno si aspetta che le impariamo. Allora, questo è un trucco. Questo è un trucco perché? Perché il percorso nostro di vita indipendente è cominciato quando eravamo vicini. Allora ci siamo detti, insieme ai genitori con cui abbiamo inventato questo modo di lavorare, diciamo, no, dobbiamo aiutare, metterci insieme tra i genitori e fare il focus rispetto a quello che sarà in futuro. Cioè noi dobbiamo fare quella cosa, questo, ma che ho una nuova rettiva, e pensare al futuro. Perché è naturale che i genitori, perché noi ci sono i genitori, le persone con desabilità, quindi... Se l'intervallo lo metteriamo, mi direte se è vero. Io parlo con tanti genitori, di persone con desabilità, e sempre, tantissime volte, mi sono servita a dire che nel momento della comunicazione, della diagnosi, magari quel bambino neonato piccolissimo, il primo benestero è come farà quando non ci saranno più. Perché è naturale per i genitori essere orientati al futuro. Allora, questo futuro noi lo dobbiamo costruire. Lo dobbiamo costruire. Lo dobbiamo costruire insieme, qui, lavorando con i genitori piccoli, perché non si perde mai lo sguardo al futuro. Ma che cosa dobbiamo fare noi oggi? Dobbiamo fare oggi quelle cose che domani ci consentiranno. Quindi l'importante è che tu è oggi, fare a vestirti, perché domani ti consentirà tante cose, ma anche di lavorare, di fare noi. Quindi, lavorare, e lavorare perché le persone intorno si aspettino che io faccia le cose. Perché questo succede a tutti noi? Se avete collaborato con persone che non vi stimavano, speriamo io, non può succedere, o che pensavano che voi valeste poco, sicuramente non avete dato il meglio di voi. Se avete collaborato con persone che vi stimavano, che pensavano che voi proprio ce la potevate fare, allora magari lavoro persino di notte, ma tu di dimostrare che hai proprio ragione a ricordare nella fiducia. Questo funziona per tutti, anche quando c'è una disabilità in lettura. Quindi noi dobbiamo costruire un contesto di persone che hanno fiducia nelle possibilità delle persone con disabilità in lettura. Un'altra questione, e quindi al conto perché appunto abbiamo preso questi genitori per parte di che progetto abbiamo portato avanti e adesso portiamo avanti in altre forme, un'altra questione è appunto il pensiero, una confusione che spesso si fa tra dipendente e autonomia. Allora, la autonomia vuol dire fare un po' da solito. Allora, si pensa, spesso, io porto un po'. Mi piace facciamo fermare da un microfono, eh. Un'altra questione è tutto. Vi dicevo, a volte parlo con operatori che lavorano con persone con disabilità e tanti, sento, fanno percorsi di autonomia, scuole di autonomia. Allora, bisogna fare un attimo attenzione perché autonomia e dipende di un mente non sono sinonimi. Non voglio dire la stessa cosa perché l'autonomia vuol dire che io faccio delle cose da solo. Ma in qualche caso io queste cose da solo proprio non le posso fare. Cioè, non è questione di fare una scuola, imparare, di ripetere, non le posso fare. E' più facile l'esempio se pensiamo alla visa di Gantan. Torno, se io non muovo le braccia e le gambe, non le muovo. Quindi, non ho una autonomia motoria. Quindi, qualcuno dovrà sempre vestirmi, nutrirmi, va bene? Però, la Convenzione ONU, di cui ci parla la Venezia, che ha citato anche il vostro dirigente, bravo, siete fortunati per la dirigente, bravo, lo dica indipendente. La Convenzione ONU dice che però è un diritto per tutti. Guardate che la Convenzione ONU, che è bellissima, se non l'avete mai letta, leggetela perché è facile ed è meravigliosa. Uno lo legge e dice sì, proprio questo dobbiamo fare. E questo è legge dello Stato, quindi, proprio sottolinea che, quali sono i diritti delle persone con disabilità. Allora, la Convenzione ONU dice che la vita indipendente è un diritto per tutti, non dice è un diritto per gli evi, un diritto per chi ce la fa, un diritto per chi riesce a cucinare, un diritto per chi è capace a vivare in buona, dice che è un diritto per tutti. Quindi, vuol dire che l'autonomia, io posso anche non averla in qualche ambito, magari in qualche cosa o anche tante cose dovrò essere aiutato, ma lo stesso ho il diritto alla vita indipendente, cioè ho il diritto a decidere di me stesso nella misura in cui mi è possibile e devo essere anche aiutato e sostenuto in questa decisione. Perché vi dico che tante volte c'è confusione? Perché tante volte quando si parla di disabilità intellettiva, gli operatori, non so se in sala ci sono degli operatori, se ci sono che non li conosco quindi non mi riferisco a nessuno dei presenti attualmente, ma in giro per l'Italia ho detto tante volte, gli operatori invece confondano autonomia la vita indipendente. Quindi, come dire, proviamo quanto riesce ad essere autonomo, proviamo se riesce a cucinare, se riesce a prendere il pulno, se riesce a comprare i soldi, se riesce a fare queste cose, allora comprai la vita indipendente, se no non ce la fai struttura. La Convenzione ONU, che ripeto, è legge dello Stato, ci dice che non è questa la prospettiva giusta, ma che la prospettiva giusta è che ognuno deve essere sostenuto in ciò di cui ha bisogno per vivere la propria vita indipendente. Ma guardate che il sostegno non è una cosa per le persone con disabilità, è un sostegno per, il sostegno è un parliquo da che attraversa le nostre vite. Io oggi sono qua, io ho una mamma che ha bisogno di assistenza, io posso essere qua, perché dice la signora Antonietta, bravissima, che questa mattina si occupa della mia mamma e che prepara il pranzo che io oggi non posso preparare. Senza il sostegno di questa signora io oggi non potrei vivere questa esperienza con voi. Quindi è normale, pensate all'amministratore delegato di una grande azienda, ma secondo voi si paga le vogliette. ma secondo voi si stirà le camicie, si pulisce il bambino, io penso proprio di no, avrà qualcuno che lo fa per lui. Allora il sostegno attraversa le nostre vite. Quindi qual è il concetto? Che se noi vogliamo parlare di vita indipendente delle persone con disabilità, dobbiamo spazzare via le questioni dell'autonomia che ci disturbano, perché ci confondano, e concentrarci sul tipo di sostegno. Allora, le famiglie che avete visto sono un gruppetto di un progetto molto grande che ho avuto la fortuna di coordinare negli anni passati che è il progetto Vela. Il progetto Vela è stato il più grosso progetto sulla disabilità intellettiva in Italia negli ultimi anni ed è stato finanziato dalla fondazione Casa di Rispargo di Puglino. Le fondazioni servono per i progetti sperimentali. Qual è stato il mandato perché è stato fatto questo progetto Vela? Perché questa fondazione, che è una fondazione molto importante, molto rica, voleva investire sul dopo di noi. Facciamo delle cose per il dopo di noi. Quindi abbiamo fatto un tavolo di lavoro con tutti i soggetti, le associazioni, le ASD, i comuni, tutti quelli che si occupano in qualche modo della disabilità e abbiamo progettato un progetto pilota per vedere come si fa a pensare al dopo di noi per le persone con disabilità intellettiva. Quindi abbiamo guardato le buone pratiche italiane poi abbiamo immaginato cosa si poteva fare e così è venuto fuori il progetto Vela. Che cosa abbiamo mostrato con il progetto Vela? E perché mi piace tanto veglielo a raccontare perché se si è potuto fare lì vuol dire si può fare dappertutto. Allora con il progetto Vela abbiamo detto proviamo a vedere come si fa a sostenere la vita indipendente delle persone con disabilità intellettiva. Perché delle persone con disabilità motoria è un po' più facile immaginare dice vabbè che hanno bisogno di un assistente forse due assistenti però in qualche modo la persona si autodeterma. Come si fa a garantire la vita indipendente delle persone con disabilità intellettiva ci abbiamo provato il progetto Vela ci siamo riusciti abbiamo guardato quanto costa abbiamo misurato quanto costa e le notizie sono molto buone perché sostenere in modo personalizzato le persone con disabilità intellettiva di valori indipendenti costa molto di meno rispetto al disabilitare struttura. e questa è una buona notizia visto che ci ricordano i dirigenti regionali i soldi non è più come una nota che stavano qui il percorso personalizzato quindi sostenere in maniera personalizzata una persona con disabilità intellettiva nel suo diventare un amico primo costa di meno secondo crea una speranza un futuro perché se voi ci pensate è solo per i disabili che parliamo di dopo di noi questa condizione è un po' sentito ma noi parliamo stessa è solo per i disabili che si parla di dopo di noi non chi chi sono questi noi sono i genitori quindi diamo per scontato che l'unico riferimento della persona con disabilità siano i propri genitori perché anche a tutti gli altri a un certo punto i genitori muoiono e quando un genitore manca è un grande dispiacere ma non è una tragedia nel senso dell'organizzazione della mia vita quindi se i miei genitori vengono a mancare poi io provo a dispiacere ma non è una tragedia nella mia vita perché già prima che loro mancchino io ho costruito una realtà affettivamente significativa o un compagno qualcuno che mi vuole bene o una rete di amici o una rete di relazioni o un lavoro solo inserito in un contesto sociale per cui non è la famiglia l'unica come dire mia realtà e quindi manca la famiglia e tutto il mio universo crolla ma la mia famiglia l'origine i miei genitori sono alcun riferimento io posso stare a vedere o non so cosa si può fare cosa? si metta qui e la sentiamo se si mette qui io mi metto dove volete però secondo me con il micro non si sente meglio perché ci sono le persone in sfondo che forse lo sentono ma così è per tenere viva l'attenzione sapete così ogni tanto non mi sentite più di svegliare se no la voce dopo un po' addormenta quindi ho un mondo di riferimento che non è solo la famiglia di origine e quindi come facciamo noi a lavorare per il dopo di noi noi dobbiamo lavorare durante noi cioè quando la famiglia c'è ma dobbiamo cominciare a lavorare per il dopo di noi fin da quando la persona è bambina imparando competenze fin dove è possibile ma soprattutto costruendo reti sociali cioè costruendo relazioni costruendo una rete che sostenga la persona e tutto questo può essere oggetto di lavoro educativo cioè le reti si costruiscono cosa abbiamo fatto con il progetto dove abbiamo sostenuto dei giovani adulti con disabilità intellettiva nel loro percorso di adultità e un percorso di adultità significa per esempio l'inserimento lavorativo allora che cosa abbiamo fatto rispetto all'inserimento lavorativo io in tutto questo scusate mi devo recuperare l'orologio perché siccome sono cose che mi appassionano non vorrei divulgarmi troppo che cosa abbiamo fatto con l'inserimento lavorativo di questi giovani adulti con disabilità intellettiva allora cosa si fa abitualmente per gli inserimenti lavorativi io vi dico che cosa si fa in Piemonte e cosa si fa in tante parti d'Italia cosa si faccia qui nello dettaglio non lo so ma immagino che sia molto simile a quello che si fa da altre parti cioè solitamente per gli inserimenti lavorativi la persona riceve una validazione qualcuno valuta le sue competenze le sue scrittà no dopo di che si fa un training si insegna alla persona magari si fa un corso si fa qualche cosa di pre-laborativo dopo viene inserita eventualmente in una realtà lavorativa e si vede come va se ce la fa non ce la fa l'espressione che gli operatori usano è si regge questo modo di inserimento lavorativo porta dei risultati molto scadenti molto scadenti l'inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva è minimo è minimo non voglio citarvi dei dati non precisi comunque siamo intorno all'1% delle persone con disabilità intellettiva che lavorano allora quello che ci siamo detti visto che siamo in università visto che eravamo in questo progetto sperimentale in un progetto che cosa abbiamo fatto abbiamo messo a punto un modo di inserimento lavorativo diverso innanzitutto non partiamo dalla valutazione delle competenze della persona perché perché la valutazione delle competenze della persona fatta fuori con il testo è sempre statua e questo vale ancora di più per la disabilità intellettiva perché perché una persona con disabilità intellettiva può non sapermi raccontare come si fa la pasta una persona con disabilità intellettiva può per esempio non sapermi raccontare come si fa la pasta o dirmelo male ma può essere che non è farlo ancora un pezzetto una persona con disabilità intellettiva può essere in grado di fare la pasta sul gas di casa sua può non essere in grado di fare la pasta su un gas diverso perché a casa mia e con me sono di qua invece in quest'altro posto sono di lato e io posso avere difficoltà nel trasporre le mie competenze quindi una valutazione della persona fuori con il testo porta a sottostimare le possibilità della persona ancora una formazione fuori contesto cioè insegnare a fare una cosa in un laboratorio dal punto di vista poi dell'efficacia del trasferimento delle competenze non funziona perché una delle caratteristiche della disabilità intellettiva è la difficoltà di trasporre queste competenze cioè non è che se io imparo a fare una cosa qui allora saprò farla là dove il contesto è diverso ci sono persone diverse ci sono aspettative diverse quindi abbiamo detto non è che l'abbiamo tentato perché siamo dei geni ma abbiamo guardato la letteratura e questo è un modello che ormai per esempio negli Stati Uniti è applicato da tanti anni quindi il modello non è ti preparo e poi inizi ma ti inserisco e ti formo su luoghi lavoro che cosa facciamo però prima di inserire la persona lavoriamo sul contesto cioè formiamo i colleghi di lavoro perché la persona con disabilità intellettiva può svolgere una serie di mansioni anche la persona complessa anche una persona che abbia una serie di benefici importanti può svolgere una serie di mansioni ma chi sta intorno deve primo sapere come si parla a una persona con disabilità intellettiva perché se io ti chiedo una cosa in maniera non agganciata a quello che tu puoi capire io non la so fare sto lì fermo oppure dico di sì perché mi vergogno di entrare un capito e poi faccio tutt'altro quindi vedi che non riesce molto spesso è un problema di comunicazione di come io spiego le persone oppure non ti devo spiegare ma ti devo fare vedere perché se te lo spiego magari è un livello di estrazione a cui non accedi se te lo faccio vedere lo facciamo insieme è più semplice ed è più facile e l'altra cosa che facciamo prima di inserire la persona è ragionare insieme all'imprenditore o alla realtà azionale sul costruire la mansione giusta perché non c'è nei processi produttivi nessuna mansione e tu pur vada bene con una persona con disabilità intellettiva ed è difficile per un imprenditore o la responsabile risorse unane o il direttore di un magazzino capire che cosa va bene perché per me è molto facile non distingo se questo è accessibile per una persona con disabilità intellettiva o se ha per esempio un contenuto a scatto per cui per la persona è un amico e quindi supportiamo l'imprenditore nel costruire la mansione adatta quello che chiediamo è che la persona abbia una mansione utile per l'azienda cioè qualcosa che serva veramente all'azienda no? semplicemente che l'azienda sia disponibile con buon cuore a cogliere i disabili perché e questo ve lo dico un po' scherzando un po' no le aziende con cui abbiamo lavorato peggio sono le aziende disponibili cioè quelle abituate a ricevere i disabili quelle abituate a ricevere i disabili molto spesso hanno già la mansione inutile dedicata all'isabile quella cosa che se quello la sa fare o non la sa fare è uguale invece se noi chiediamo e negoziamo con l'azienda che la mansione sia utile all'azienda allora poi io posso individuare questa persona chiedendo come un lavoratore un lavoratore che magari sarà un pochino violento un lavoratore che magari sarà un orario un pochino ridotto ma un lavoratore è ancora una cosa che spieghiamo agli imprenditori è che questo ripensare alle mansioni è per le aziende un processo molto benefico perché le aziende non hanno il tempo solitamente di soffermarsi nel dettaglio a pensare le mansioni mentre invece quando ci si mette in esistenza ai processi produttivi e si cerca di semplificarli poi trovo che magari quella certa cosa si poteva già fare in modo più semplice quindi impariamo a farla in modo più semplice per adattarci alla persona con disabilità ma quando una mansione è più semplice è meglio per tutti si chiede che sia uno dei colleghi a insegnare la mansione e quindi c'è una presenza dell'educatore all'interno dell'azienda nel primo periodo al compito dell'educatore non è tanto insegnare appunto la persona con disabilità ma quello di guardare il contesto e vedere che cosa si può modificare nel contesto perché la persona riesca a svolgere il proprio suo luogo allora questo metodo di inserimento lavorativo nelle sperimentazioni pilota ha portato dei risultati straordinari veramente eccezionali voi pensate che su dieci persone inserite sul lavoro otto sono state contrattualizzate al termine del primo semestre del semestre di tirocinio e di queste quattro sono state assurde nel determinato dopo i sei mesi sono dei numeri che sarebbero importanti per persone di sviluppo tipico figurate per persone con disabilità allora che cosa stiamo facendo adesso i risultati sono stati così incoraggianti che stiamo continuando a lavorare in questo senso perché è chiaro che una sperimentazione pilota ha il limite di avere numeri piccoli quindi adesso con i centros studi stiamo continuando a lavorare sui inserimenti lavorativi proprio perché se continuiamo a dimostrare che questo modo di accompagnare le persone porta dei risultati così notevoli allora noi non possiamo più consentire che tradizionalmente le persone invece vengano inserite in un modo diverso che sarebbe proprio eticamente che cosa vi posso dire rispetto a questo modo di lavorare è un modo di lavorare che consente per esempio di entrare in contatto diverso con gli imprenditori con le persone che gestiscono il posto di lavoro perché molto stesso ci si fa l'idea che c'è va bene i disabili non lavorano non lavorano neanche gli altri cosa è che adesso non si può assumere i disabili perché innanzitutto abbiamo una normativa che è molto molto buona perché impone alle aziende con un certo numero di dipendenti di assumere persone con disabilità e nella mia esperienza le aziende e sono molte che preferiscono pagare una multa rispetto all'assumere persone con disabilità non è che lo fanno perché sono brutti i campini ma vabbè perché hanno idea di non essere in grado di gestire una cosa del genere oppure hanno avuto nel passato una capiva esperienza magari è stata inserita una persona e poi l'imprenditore si è trovato da solo a gestire una persona complessa quindi nell'esperienza che stiamo facendo quando si spiega all'imprenditore o alla responsabile del risorso umano in che modo viene accompagnata in che modo viene accompagnata l'azienda di tipo di sostegno e troviamo un'ottima rispondibilità ad accogliere persone con disabilità e la vita indipendente non è imparare a cucinare imparare a contare i soldi imparare a pigliare i pulmi io scherzosamente dico che con tutti i corsi di cucina che si possono fare persone con disabilità i ragazzi si chiamano dei cuochi che non è quello io lavoro anche con gli studenti universitari ma gli studenti universitari fanno vivere la soldi ma non sanno cucinare ma non sanno tenere la casa che tengono la casa in una maniera che non si può guardare eppure nessuno giudica questa loro incompetenza poi allora non può vivere da solo perché non è quello il vivere da solo cioè il vivere in maniera indipendente è legato a percepire se stessi adulti ma ricordate cosa dicevamo all'inizio cos'è che fa sì che io impari e anche com'è che io costruisco la mia identità di adulto quando gli altri mi considerano un adulto e questa è proprio una cosa che noi dobbiamo alle persone con disabilità dobbiamo smettere di chiamarli ragazzi perché si è ragazzi che si è adolescenti quando si è 40 anni scusate quando si è 40 anni non siete i ragazzi io quando parlo degli abitatori mi dico i miei ragazzi voi scordate che i ragazzi c'erano 65 anni ma cos'è questa parola ragazzi questa parola dice che io non ti considero un adulto e tu sei un bambino e infatti guardate che tipo di attività a volte si fanno nei centri di urbi sono delle attività da asilo infantile adesso io appunto la progetto ho fatto una serie di operatori e mi dico che facciamo i lavoretti di Natale i lavoretti di Natale ma i lavoretti di Natale guardate che alle medie già non si fanno più cioè siamo proprio neanche a valigiani i lavoretti di Natale quindi non potevano fare niente perché c'erano i lavoretti di Natale cioè è tutta una dimensione infantilizzate e quindi se io so mi sento un bambino sono trattato come un bambino faccio delle attività da bambino ma cosa è la mia vita di vedere quindi è una cosa da adulto in questo senso il contesto è fondamentale quindi il lavoro per esempio il lavoro di strumento lavorativo i colleghi mi trattino da adulto e io sono Fabio e non sono Fabietto e non sono la nascota e non sono ma che bello che quando ci si entusiamo tutti i bambini ma non è vero le persone con disabilità sono come tutte no ci sono persone simpatiche persone tipatiche persone socievoli altre non socievoli cioè liberiamo come dire il contesto sociale da tutti questi stereotipi e restituiamo l'adultità alle persone con disabilità intellettiva quando le persone mi considerano un adulto allora dentro di me nascono i desideri che vuol dire vivere da soli che non vuol dire da soli come nel deserto ma vuol essere vivere sostenuti ma scegliendo dove voglio vivere che è un diritto della convenzione omica io questo lo chiedo agli studenti scherzosamente quando lavoro con i ragazzi dico ma voi sareste disponibili a che io decida la persona con cui voi viverete ma sì una volta che io c'ho esperienza sceglievo io le persone con cui voi viverete e loro sghignazzano perché la sentono una cosa assurda perché è un qualche cosa che non si cederebbe mai a un altro non consegna a un altro di scegliere dove contribuire attenzione la convenzione omica ci dice questo è un diritto anche della persona con disabilità cioè anche la persona con disabilità deve poter scegliere dove contribuire questo è un diritto che molto spesso è disatteso allora ecco che cosa che cosa vi voglio raccontare con tutti questi stimoli che rispettare la convenzione omica in maniera radicale cioè non pensare che siano una serie di dei progetti ma sì delle parole ma la realtà è un'altra no si può fare e l'ottima notizia di questi tempi che non so se può fare ma costa meno che mettere in struttura e quindi se si può fare bisogna fare mi vado a lavorare saluto dai Franci vieni tiralo su alla destra vai dai loro vai dai loro è giangilo signora è giangilo è gippa sai è jettito sei nella corsia cinque calci lascia aperto No, non c'è l'esperto Ma che è andato normale? E' lì in casa? Aspetta Quindi la cartella è questa qui però la apriamo con il programma questo Ma, tanto dobbiamo sentirlo Allora, CDH sarebbe il video che dobbiamo fare con il CDH nostro, degli altri visuali Quindi noi dobbiamo finire le interviste della CDH Il programma che stavamo facendo noi oggi